Continua l'attività di campagna elettorale di Fisciano Europea che da domani torna tra le frazioni. Qual è il calendario dei vostri appuntamenti? Sì, domani sera saremo a Penta, mercoledì saremo a Soccorso, mentre venerdì saremo a Gaiano. La settimana invece successiva saremo a Fisciano e a Lancusi, rispettivamente di martedì e di giovedì. Tutti gli appuntamenti saranno alle ore 20, chiedo a tutti i cittadini di venire a questi incontri affinché possano ascoltare la nostra voce e viceversa noi possiamo ascoltare la loro. La cosa che più mi è rimasta impressa di questa campagna elettorale è la grande richiesta di lavoro che c'è da parte delle persone. Purtroppo molte di queste sono venute vicino e mi hanno detto che dobbiamo lavorare. Noi ci batteremo affinché venga creato più lavoro, venga creata occupazione, come si staranno domandando le persone che mi ascoltano. Attraverso l'aumento dei servizi ai cittadini, attraverso un'incentivazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Faccio un esempio molto stupido e banale. Se noi istituissimo degli asili nido in tutte le frazioni sarebbe necessario del personale. Ovviamente si andrebbe a creare di conseguenza occupazione. Così per le ludoteche, così per i centri sociali. Tutto ciò che si crea per il cittadino richiede occupazione. Ovviamente non dovranno mancare dei servizi socio-assistenziali che anche essi creerebbero dei posti di lavoro.